E' il nodo, il vostro nodo, è il non vivere in connessione con il Dio che sei. Ma maestri, qual era il tuo desiderio maestro? Che Gail ti dicesse qual è il nodo da sciogliere. Ecco il nodo da sciogliere, non è da sciogliere, è da conoscere la mancanza di libertà. La mancanza ostacolata da questi vizi, chiamiamoli vizi, chiamiamoli ostacoli, li abbiamo chiamati nodo. Ma nell'istante in cui voi lo sapete e li osservate, vi accorgete che tutto è giusto, che tutto è perfetto esattamente così com'è. Che ognuno di voi, attraverso l'emozione dalla quale maestro non devi distaccarti, non devi distaccarti, ma è tua, è l'emozione. Non ti devi anestetizzare da quell'emozione, altrimenti tu non cogli il calore, il tuo calore, la tua passione, quella che ti fa stare in comunione con l'altra parte di te, che non ti permette, nello spirito che ti lega, di ricongiungerti. Maestri, abbiamo fatto un grande lavoro stasera, un grande lavoro. Non perdetelo, provate a rileggerlo quando poi vi sentite tristi, sconsolati, che vi sembra di sentirvi oppressi, addolorati, soli.